Ciao a tutti e benvenuti al giorno 4 del calendario dell'avvento di Beagle Needs con Save the Sheep oggi avremo bisogno del nostro filato, dei nostri ferri e basta e cominceremo avviando due maglie con il metodo che voi preferite avviamo due maglie, ne abbiamo una, ne abbiamo due voltiamo il lavoro per fare il ferro 1 e facciamo un diritto e un aumento come quelli che abbiamo fatto finora lavorando dal filo davanti e dal filo dietro voltiamo il lavoro per fare il ferro 2 sul rovescio del lavoro e lavoriamo tutto 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 a diritto diritto fino alla fine voltiamo ancora il lavoro per fare il ferro 3 questo farà parte della ripetizione e lavoriamo diritto fino a due maglie prima della fine qua ne abbiamo solo una ma poi ne avremo di più facciamo un aumento e facciamo un diritto per finire il ferro 4 tutto a diritto come tutti i ferri del rovescio del lavoro di questo indizio adesso ripetiremo i ferri 3 e 4 cioè lavoriamo fino a due maglie prima della fine facciamo un aumento e un diritto poi sul rovescio del lavoro tutto a diritto fino ad ottenere 16 maglie sui ferri ripetiremo 12 volte ancora sono già arrivato a 16 maglie sapete che quello che ho fatto è stato lavorare a diritto fino a due maglie prima della fine un aumento e un diritto e sul rovescio tutto a diritto molto utile mettere il marca punti per segnare il diritto del lavoro bene siamo arrivati alla punta del triangolino adesso tocca fare le diminuzioni in questo modo lavoriamo a diritto tutto intero a diritto fino a tre maglie prima della fine tutto a diritto fino a tre maglie prima della fine dove faremo la prima diminuzione sono già arrivato a tre maglie prima della fine e adesso semplicemente facciamo due maglie insieme a diritto facciamo un diritto per finire e sul rovescio del lavoro tutto a diritto come sapete e ripetiamo questi due ferri uno con le diminuzioni un altro senza fino ad avere solo tre maglie sui ferri e in quel momento vedremo cosa facciamo sono già arrivato a tre maglie e adesso quello che faremo sarà fare due insieme a diritto e un diritto voltiamo il lavoro e facciamo di nuovo due maglie insieme a diritto e così avremo finito questo quarto triangolino adesso semplicemente spezziamo il filo e assicuriamo l'ultima maglia e abbiamo finito il quarto indizio di questo calendario dell'avvento ci vediamo domani per vedere il quinto indizio ciao e un abbraccione a domani ciao 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 ciao